Mancano ancora un po' di giorni, ma in casa rossonera c'è grande attesa per il derby contro l'Inter. Dopo la sconfitta contro la Roma, la terza in questo avvio di campionato, il Milan ha grande voglia di riscatto, ma ovviamente sa che un ulteriore co rischierebbe di compromettere la stagione milanista già ad ottobre. Anche per il tecnico si tratta di un match molto importante, anzi c'è chi addirittura dice che sarà fondamentale per il suo futuro sulla panchina rossonera, nonostante il club di Via Aldo Rossi gli abbia confermato la sua fiducia anche negli ultimi giorni.